Come creare portfogli di anomali? Un portfoglio è un contenuto di uno o più anomali. Facciamo un nuovo portfoglio, chiamandolo Test, cliccando questo bottone, e cliccando qui, cliccando Add Portfolio. Abbiamo creato il nuovo portfoglio Test. Andiamo in My Anomalies page e aggiungiamo le 4 anomali al Portfolio Test. cliccando il basso di più, sul basso dell'anomali card, Add Anomali to Portfolio. Selezioniamo Test, cliccando se vuoi aggiungere le anomali al Portfolio? Sì, aggiungiamo. Ripetiamo la procedura per le altre 3 anomali. Dopo aver aggiunto le 4 anomali al Portfolio, e vediamo che il Portfolio ora ha 4 componenti, ma non ha statistiche del backtest. Il cartone è inutile. Quindi dovremmo entrare nella Pace Portfolio Detail per cliccare nella cartone. In questa pagina c'è una tabla per le 4 componenti di Portfolio, l'ER's range per compito le statistiche e il botone che abbiamo per cliccare per lasciare tutto non cambiato per lanciare il backtest e le statistiche. Una volta che la calcolazione del backtest è finita, la seguenza avverrà. Nella Pace Portfolio Detail il graffo con le linee di equità e la tabla con le statistiche sotto. Nella Pace Portfolio il cartone di Portfolio con le statistiche sommarie. con le statistiche. .